Ancora una volta, per il quinto anno consecutivo, sabato 22 dicembre, ritorna il tradizionale concerto di Natale organizzato da ADSET, Associazione Dirigenti Scolattici e Territorio, in collaborazione con la Scuola Superiore Empedocle, l'Associazione Culturale Liceo Maurulico, l'Associazione Italiana Insegnanti di Geografia. Il concerto si pone tra le numerose manifestazioni organizzate dalla rassegna Armonie dello Spirito curata dalla Curia Arcivescovile. Protagonisti della serata, l'Euterpe Saxophone Quartet, con la partecipazione straordinaria del mezzosoprano Emi Spadaro e di Giovanni Lombardo al grande organo Tamburini. Ricordate, sabato 22 dicembre, ore 20, Basilica Cattedrale di Messina, concerto di Natale, vi aspettiamo. Nel contesto sarà organizzata un momento di solidarietà a favore dell'Associazione Dispari, un'associazione che si occupa delle persone diversamente abili. L'offerta sarà facoltativa e libera, quanti vorranno partecipare potranno farlo liberamente con la somma che più ritengono opportuna, che sarà totalmente devoluta per le necessità dell'Associazione Dispari.